Il sindaco di Bolzano Luigi Spagnoli assicura in via ufficiale che i tempi tecnici per approvare il cosiddetto accordo di programma sulla riqualificazione della zona compresa tra Via Alto Adige, Via Garibaldi, Via Lestazione e Via Peratoner ci sono tutti. Poi però a quanto pare i suoi attuali partner di maggioranza fornisce una versione più realistica. Ieri nel nostro confronto tra il gruppo Ecosociali e poi Expoz con il sindaco lui ha dichiarato definitivamente che il progetto Benko per dirlo in breve è rinviato a dopo le elezioni. Questo è per me un grande successo del mondo critico nei confronti di questa iniziativa. Per questo Rudy Benedict era deciso di appoggiare Spagnoli fin dal primo turno creando anzi ricreando la sua lista Proyect Bozen. Lo slittamento della questione però certo non piace a Benko e ai suoi che potrebbero anche decidere di spostare i 99 milioni già pronti sul piatto altrove. Non dobbiamo investire per forza a Bolzano e non è detto che la proposta che abbiamo fatto adesso che sono di 99 milioni e 100 mila euro la dobbiamo mantenere fino in autunno perché non ce l'ha prescritto il medico. Intanto in vista delle elezioni i supporter di Benko a Bolzano potrebbero anche pensare di formare una propria lista. Noi abbiamo questa associazione Bolzano domani e se non vediamo nei partiti che si stanno adesso andando veramente un programma nuovo per il futuro di Bolzano forse siamo costretti a trasformare l'associazione in partito.